ciao a tutti oggi vi parlo di un brand che mi sta molto a cuore che sicuramente molti di voi già conoscono e si tratta del marchio stonefly questa azienda è nata in provincia di treviso monte belluna e ha puntato tutto sul made in italy e soprattutto sulla tecnologia bluesoft che è la sua tecnologia storica nata nel 1996 questa tecnologia consiste nell'apporre un cuscinetto di gel nel tallone e è una tecnologia che garantisce una grande ammortizzazione durante la camminata ed è un cuscinetto progettato per alleviare i microtraumi dell'apparato muscolo scheletrico fatto durante la camminata dato che ci avviciniamo sempre di più all'inverno voglio presentarti questo bello scarponcino da donna sempre con la tecnologia bluesoft ma che in aggiunta anche una novità una membrana impermeabile posta all'interno della tomaia questo rende lo scarponcino completamente impermeabile lo stesso discorso vale anche per le proposte da uomo ti propongo tre diversi articoli il mocassino il polacchino e lo stivaletto il polacchino e il mocassino sono entrambi con la tecnologia impermeabile mentre lo stivaletto no ma anche lui ha la tecnologia bluesoft a livello del tallone tutti questi articoli naturalmente hanno il plantare straibile lavabile oppure potete inserire il vostro plantare se ne avete uno il mocassino è una soluzione veloce soprattutto per i più pigri perché si infila e via il polacchino è una via intermedia tra l'elegante e lo sportivo e anche questo però è velocissimo da mettere e togliere in quanto è provvisto di una pratica cerniera e lo stivaletto è una soluzione particolarmente elegante ma allo stesso tempo molto molto comoda in descrizione trovi tutti i link per vederli bene sul nostro sito o per acquistarli direttamente e niente ti aspetto per venire a provarli di persona ciao 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 ciao